Ogni giorno riceviamo sempre più messaggi che grazie all'informazione riusciamo ad approfondire. Quotidiani, periodici e libri, cartacei o digitali ci aiutano a interpretare la realtà, ad aprire la mente, a vederci più chiaro. Servono a conoscerci e a riconoscerci. Leggi di più perché quotidiani, periodici e libri ti aiutano a leggere la realtà. Grazie a tutti.